Attenzione a parrucchieri ed estetisti abusivi. Questo è l'appello di confartigianato benessere che ha lanciato un SOS contro l'abusivismo durante questa fase di restrizioni. In questo momento di emergenza sanitaria tra le attività che devono restare chiuse ci sono infatti anche i centri estetici e i parrucchieri. Anche i servizi a domicilio ovviamente non sono ammessi e non ci sono eccezioni. Il tutto sia in applicazione del decreto ministeriale che per la salvaguardia della salute sia dei clienti che dei professionisti. Pertanto chiunque proponga prestazioni domiciliari svolge abusivamente la professione ed è quindi perseguibile per legge. Di fronte a questa drammatica emergenza ha dichiarato Pierluigi Marzocchi presidente di confartigianato benessere oggi più che mai tutti gli operatori che offrono servizi presso il proprio domicilio o presso quello del cliente oltre che essere e degli abusivi mettono in serio pericolo la propria salute e quella del cliente. In questo momento conclude nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie emanate dal governo è fondamentale che tutti i clienti e i cittadini in generale restino a casa figuriamoci ricevere operatori abusivi.